Vi leggo ora l'ode 1 del libro terzo delle Odi, il cui incipit è Odi profanum vulgus et arcio, verso che vi avevo citato a proposito di Parini. E' un canto che fa parte delle Odi romane, cioè delle Odi di alta caratura morale e intellettuale e atte a favorire di fatto la riforma morale e culturale che era stata promossa dal regime augusteo dopo Azio. La poesia che è in ode alcaiche, proprio perché è alceo, è la poesia civile, quindi viene presa questa metrica tipica della poesia civile, questa ode è forse più fredda rispetto a quello che abbiamo letto fino adesso. E' un'ode più tarda, ma contiene in sé, a parte questo incipio molto celebre, tutta una serie di grandi temi che sono cari a Orazio. Inizia così, odio il volgo profano e lo tengo a distanza, quindi detesto le persone volgari che sono profane, cioè non sono addentro al sacro e lo tengo a distanza. Non sono dentro al sacro di che cosa? Della poesia e della filosofia, come se la conoscenza fosse qualcosa di sacro. Fate silenzio, e anche questa è un'espressione tipica della sacralità. Il silenzio era una cosa che caratterizzava le celebrazioni rituali nel mondo greco, precedevano per esempio il sacrificio. Per i ragazzi e le vergini, la sacerdote e le muse, io canto, canti mai uditi prima. Qui c'è la rivendicazione da parte di Orazio di cantare qualcosa che non è mai stato scritto in poesia, soprattutto qui nei suoi modelli, cioè la poesia lirica in genere. Per i ragazzi e le vergini, perché sono i membri tipici dei cori che accompagnavano i vari rituali sacri nel mondo antico. Come si presenta, Orazio? Come un sacerdote delle muse. È un cantore, ma è un cantore ispirato dalle muse, e non è solo un cantore banale, ma è proprio un sacerdote, cioè qualcuno che è adibito a azioni sacre. Questo rappresenta di fatto una cosa topica nella letteratura, in realtà, già dal mondo greco in poi, ma poi da Orazio soprattutto, fino ai nostri giorni, del fatto che il poeta ogni tanto si presenta come un poeta vate, cioè di un poeta che assume il ruolo di educatore della civitas, della società a cui si rivolge, e che si pone come voce autorevole, come maschera autorevole, nei confronti del proprio pubblico. E a questo punto fa riferimento a cose importanti, subito con questa strofa. Se i re terribili hanno potere sul proprio greggio, cioè se i re sono potenti nei confronti dei loro subiti, sopra i re sta il potere di Giove. Questo perché Giove è di fatto la divinità del potere politico, ne è quasi, diciamo, la rappresentazione dentro l'Olimpo del potere degli uomini sulla terra. Giove che illustre per aver sconfitto i giganti, qui fa riferimento al mito in cui Zeus avrebbe distrutto i giganti che volevano sovvertire il potere divino grazie agli altri dèi, e poi li avrebbe sottardati nel Tartalo, questa cosa in Esiodo, nella teogonia di Esiodo. Giove che muove il mondo col suo sopracciglio. Immagine di estrema potenza, Zeus è sempre rappresentato col verbo nuovo, per esempio in greco, con questa azione per cui non esprimerebbe la propria volontà parlando, ma accennando, accennando di sì, cioè abbassando la testa, o di no, scuotendola. È possibile che un uomo ordini in più file i suoi alberi, che scende in campo un candidato più nobile, oppure migliore per costumi e reputazione, che un altro ancora abbia più folla di clienti. Cioè, ammettiamo pure che sia possibile, e qui sentite, non siamo veramente su un priamel come nell'Ode 1.1, ma ci siamo quasi, e fra l'altro il fatto che la struttura qui richiami l'Ode 1.1 è significativo perché siamo nella prima Ode del terzo libro. Cioè, è possibile che ci sia un uomo che ordini in più file i suoi alberi, fa riferimento chiaramente alle persone che fanno i frutteti, che sono in file, ma probabilmente è un riferimento a un'immagine politica, che scende in campo, possibile che questo campo sia il campo marzio, dove effettivamente venivano scelti alcuni magistrati, benché molto spesso venivano scelti nel foro, un candidato più nobile, più nobile di stirpi chiaramente, oppure migliore, qui c'è il gioco tra Aristos, che vuol dire migliore ma anche nobile, migliore per costumi o per reputazione, cioè per gloria. Che un altro ancora abbia più folla di clienti, cioè che abbia un supporto sociale maggiore rispetto agli altri. clienti erano quelle figure subordinate di un aristocratico, di un nobile che erano subordinate a lui perché avevano ricevuto favori dal loro dominus. Con legge equa, la necessità sortegge grandi e infimi, un'urna capace scuote il nome di tutti. Qui c'è l'immagine di una necessità, di una divinità, che potremmo chiamare necessità ma probabilmente anche fortuna, più che in greco, che sorteggia i ruoli sociali di ciascuno come se le prendesse da una grande urna che scuote. Cioè non è che è un vero e proprio merito dove siamo, ma è più che altro casuale. Di fronte a questa immagine, la risposta epicurea di Orazio è accontentarsi. Vedremo perché. Infatti la frase nella strofa successiva evoca una situazione in cui la necessità ti mette di fronte a qualcosa di difficile. A chi pende sulla testa e impia una spada sguainata, non danno gusto i bacchetti siciliani e non gli conciliano il sonno, il canto degli uccelli e la scena. Qui chiaramente fa riferimento alla spada di Damocle. Il tiranno di Oniso, racconta Cicerone, avrebbe messo sopra la testa di Damocle una spada presa da un crino, a un capello, praticamente. Quindi è una cosa di situazione molto precaria e quindi non gli davano gusto a Damocle e non gli danno gusto a nessuno che è sotto una necessità impellente, neanche i banchetti siciliani che venivano considerati i banchetti più lauti e più delicati, ricchi, eccetera, eccetera, del mondo antico. E a questa persona, benché si trovi su uno dei migliori banchetti del mondo, il sonno non gli viene conciliato dal canto degli uccelli e soprattutto dalla scetra, cioè dalla musica e dalla poesia. Anche il canto degli uccelli è una questione legata alla poesia, probabilmente qui fa riferimento a un Carme di Alcmane che dice che lui ha imparato la poesia dal canto degli uccelli. Invece, quindi c'avete il contraltare, il dolce sonno non evita le case umili degli contadini, la riva ombrosa, la valle agitata dallo zaffiro. Ora qua c'è un riferimento di contrasto proprio a quello che dicevo prima, cioè all'epicureismo. Le case dei contadini non sono evitate dal dolce sonno, cioè sono baciata dal dolce sonno e sono umili. Cioè non stiamo parlando del banchetto del tiranno Dioniso, ma sono persone umili. Perché sono amate dal sonno queste case? Perché le rive ombrose, la valle agitata dallo zaffiro di fatto non evita le case degli umili? Non le evita perché queste persone magari si accontentano di una unità povera, umile, ma che può dare soddisfazione, anche se sono stati nell'urna, diciamo, dell'amicizia hanno preso il biglietto sbagliato. Notate anche questo non evita, che è una negazione di un'azione negativa, evitare, che è di fatto un alitote, una figura ritorica tipica del mondo antico. Notate anche in questa strofa, e chi desidera ciò che gli basta, la frase che ideologicamente è centrale all'interno di questo carme, fra l'altro se guardate, è praticamente proprio a metà del carme, è in Anjambemotra due strofe. Cioè, è chi desidera ciò che gli basta, cioè chi si conforma all'etica picurea, neanche il mare in tempesta lo angoscia, neanche la furia di Arturo al tramonto, del capretto quando sorge, e le vigne percosse dalla grandinata, o il podere ingannevole, con le piante che accusano ora le acque, ora le stelle che bruciano i campi, ora l'inverno spietato. Cioè, chi si accontenta supera tutte le difficoltà che la natura gli può dare. Cioè, il mare in tempesta non può ingosciarlo. Qui è un'immagine che dichiama moltissimo Lucrezio. In Lucrezio c'è questo fatto, che il saggio storico è come una persona che vede da riva il mare in tempesta e si dice, io sono al di là di questi problemi e non me ne interesso. Neanche la furia di Arturo al tramonto, e quando Arturo al tramonto, Arturo è una costellazione, è una stella, diciamo, e quando tramontava iniziava l'autunno e l'inverno. Idem quando il capretto, che anche questo sono insieme di stelle, quando sorge, che fanno i film. Voi dovete sapere che nel mondo antico i contadini facevano i lavori dei campi, questo lo dice Siodo, nelle opere dei giorni, a seconda della posizione delle stelle nel cielo. Se una stella tramonta a un determinato momento della giornata, significa che siamo nel periodo della vendegna, oppure il periodo della venditura, oppure il periodo di fare determinate azioni. Quindi quando le stelle ti indicano che è il momento peggiore dell'anno, quando nevica, piove, eccetera, eccetera, tu non ti devi preoccupare perché ti sei accontentato. Oppure l'altro esempio è quando le vigne sono percosse alla grandinata, questo è uno dei grandi drammi quando sta per avvenire la vendemmia, che sapete che se la vigna è percossa alla grandinata, praticamente la vendemmia è buttata. O il potere è ingannevole, cioè il potere che non ti dà, poi in realtà quello che, i frutti che avrei disperato, con le piante che acchiusano ora le acque, perché sapete che le piante quando ricevono troppa acqua marciscono, ora le stelle che bruciano i campi, qui fa riferimento al cane, alla canicola, quindi è quando diciamo si vede durante la notte la canicola, che è una stella che sta sotto, che è Silvio di fatto, che compare durante tutta la notte diciamo in un periodo che è durante l'estate, che corrisponde al momento in cui fa troppo caldo, quindi sarà tutta la fine di luglio e tutto agosto. Ora è l'inverno spietato, quindi non ti fa paura né il troppo caldo, né il troppo freddo, né la pioggia, né la grandinata, eccetera. I pesci sentono restringersi il mare per le fondamenta gettate a largo, cioè i pesci sentono restringersi il mare a causa delle fondamenta, cioè di queste specie di bighe che vengono fatte in mare per proteggere le barche o per farle partire. Le colmano l'architetto gelante con i suoi accoliti, cioè con i suoi aiutanti, e il padrone, cioè l'impresario che, diciamo, fa fare questo lavoro, che si è stancato della terra. Ma timore e minacce vanno dove va il padrone, cioè non è che se il padrone sfugge la terra ferma per andare in mare si lascia alle spalle tutte le paure che lì aveva trovato. e il nero affanno non lascia la triremi di bronzo, cioè il nero affanno, l'affanno che fa paura, non lascia la triremi che è un tipo di barca specifico del mondo antico, non lo abbandona. Quando cavalca, siede alle sue spalle, cioè quando cavalca il mare, questa, diciamo, affanno, siede alle sue spalle, gli sta dietro. Ma se il marmo di frigia o la porpora più luminosa delle stelle o la vite falerno o il profumo persiano non vale a levare il dolore, perché dovrei rigere un atrio alla modra con stipidi da fare invidia? Ma cioè, che vuol dire qui? Ma se le cose più belle, più lussuose, più stupende che io posso conoscere, cioè il marmo di frigia, una porpora più luminosa delle stelle, la vite falerna, cioè una vite che dà un vino particolarmente lussuoso e straordinario, se il profumo persiano, se il profumo orientale veniva, come sapete, considerato qualcosa di, l'abbiamo visto nell'Evora 4, qualcosa di straordinario, non vale ad alleviare il dolore, sapete che per un epicureo eliminare il dolore è la prima fonte per la felicità e per la parossia, perché dovrei alzare, costruire un atrio alla moda, cioè che sta dietro tutto quello che la gente desidera, con stipidi, cioè con queste specie di colonne, con stipidi delle porte, da fare invidia a tutti, perché io dovrei essere invitato per avere una casa straordinaria, perché cambiare con più laboriose ricchezze la mia valle Sabina, perché io dovrei inunciare alla mia villa in Sabina e sostituendolo con qualcosa che è molto più ricco, molto più bello, ma poi non mi allieva il dolore, allora preferisco accontentarmi di poco, accontentarmi del mio campo, del mio vino semplice, che mi dà molto più gioia che non magari impegnarmi in quelle grandi opere civili che magari danno affanni, che sono quelli che voi ritrovavate all'inizio del karma, cioè i versi 9 seguenti, e ispirarmi a una moralità più saggia, più sobria, ma probabilmente più prona a rendermi felice.